Vincolo della carità, segno di unità e di pace, sorgente di gioia purissima, sacramento che germina i vergini, sacramento che dà forza e vigore, regustazione del banchetto celeste, pegno della nostra insurrezione, pegno della gloria fura, agnello di Dio che togni i peccati del mondo, perdonaci Signore, agnello di Dio che togni i peccati del mondo, ascoltaci Signore, agnello di Dio che togni i peccati del mondo, abbi pietà di lui, hai dato loro il pane disceso dal cielo che porta in sé ogni dolcezza. Siano dato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e ci sono sempre, nei secoli, nei secoli, nei secoli, siano dato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. E' giunta l'ora di Gesù, ora dal suo trapasso da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. L'ultima cena è appunto testimonianza di quell'amore con cui Cristo, agnello di Dio, ci ha amato sino alla fine. Ma che cosa significa, li amò sino alla fine? Significa, fino a quel compimento che doveva avverarsi nella giornata di domani, il venerdì salto.